un bel ritrovato cari amici di auto occasioni oggi mi trovo per voi da golden garage parliamo della boutique delle due delle quattro ruote e con me dennis defina ciao dennis ciao elisa un bentrovato tutti siamo in strada carignano 54 a moncalieri comodissimo da raggiungere da torino e zone limitrofe dennis come dicevo appunto quattro e due ruote perché voi vi occupate davvero di tutto sì abbiamo denominato garage questo centro proprio perché come in un bel garage abbiamo tutto ciò che può essere un giocattolo per adulti trattiamo tantissime auto sportive abbiamo anche delle classiche ma non solo da noi troverete anche utilitarie e macchine da utilizzo familiare quindi non resta che andare a visionare il sito e dopodiché per qualsiasi informazione potrete passarci a trovare o darci un colpo di telefono per avere tutte le delucidazioni del caso e poi dennis voi vi occupate veramente di tantissime cose perché non c'è soltanto la vendita ma c'è anche l'acquisto la compravendita la permuta cioè davvero c'è l'imbarazzo della scelta sui servizi certo uno tra i più in voga al momento è quello del conto vendita che vi permette di poter realizzare la massima valutazione della vostra auto o della vostra moto e togliervi soprattutto l'incombenza di doverla gestire con la vendita tra privati fare pubblicità inutili e rischiare di avere degli appuntamenti con gente che vi possa far perdere tempo ci occuperemo noi di tutto dalla preparazione del veicolo alla trattativa piuttosto che la pubblicità fino al pagamento finale e questo per potervi dare come dicevo prima la maggior serenità possibile so che questo mese ci sono davvero tante novità dennis sia sulle due che sulle quattro ruote assolutamente sì abbiamo tanti nuovi arrivi ricordo prima di farvi qualche esempio di ciò che ci è arrivato che saremo aperti per tutto il periodo estivo quindi luglio e agosto saremo a vostra disposizione parlando di proposte abbiamo tanti nuovi arrivi si parla di 124 abart ne avevamo già uno disponibile ci è arrivato il secondo bianco e nero abbiamo disponibile una 997 in configurazione coupé con cambio automatico una fantastica lotus introvabile sul mercato dell'usato si parla di un prodotto pari al nuovo un aston martin db9 volante un prodotto con pochissimi chilometri proprio quello sul quale abbiamo fatto tutta la trasmissione e ancora altri prodotti più classici parlando di mini cooper sia versioni sportive s che versioni da neopatentato una fantastica audi a7 anche questa automatica benzina con pochissimi chilometri e terminerei la carrellata su qualche porsche parlando di macan un fantastico boxster con soli 33 mila chilometri ideale per questo periodo e ancora una 991 turbo s di seconda generazione con soli 40 mila chilometri ufficiale full optional siamo quasi giunti in chiusura ma denis hai parlato delle abart 124 ma non hai parlato delle 500 verissimo me ne sono proprio scordato eppure ne abbiamo tantissime a vostra disposizione dalle più classiche originali alle più limitate ed anche modificate ne abbiamo oltre 7 8 in pronta consegna veniteci a trovare per poterle scoprire dal vivo oppure se volete iniziare a visionarle sul sito ve lo ricordo golden garage punto eu non mi resta che venire qui in strada carignano 54 a moncalieri grazie denis come sempre per la tua propria grazie a te e un saluto a tutti alla prossima puntata